e devi scendere di là perché è l'unico posto che c'è e ma va messo a posto no ma qua non siamo mai venuti poi perché vedi che è tutto sporco ancora guarda che quello lì sarà alto un metro e ottanta quel pozzo lì se sta lascia salire il chicco che è fino a che maio se viene su lui così lascia stare e ma poi là sotto c'è un altro ponte ancora che non aveva mai pulito non so com'è può andare in giù è brutto l'arrosto è brutto l'arrosto è brutto l'arrosto sa stare è quello dopo che mi preoccupa è lui che mi preoccupa via 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 se non gli dai spazio te c'entra ho provato a fare come te ma non ci sono arrivato io ci ho provato ma magari su un mingavi va è brutto l'angivella non ci sono qua non ci sono io ci ho provato ma chi non ci sono ma non ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.